buongiorno buongiorno a tutti carissimi amici carissime amiche eccoci qua benvenuti in diretta da maniago provincia di pordenone aspettate che sto cercando ecco metto a posto l'auricolare così posso posso osservi un audio migliore ecco qua credo che così si sente meglio allora come dicevo siamo a maniago in provincia di pordenone dove abbiamo passato la notte chissà da qua riesco sì mi sa che se riesco a farvi vedere il camper allora qua siamo in in questo bellissimo parco dell'hotel che ci ospita vedete c'è veramente un bel giardino e anche bei personaggi dice dice qui giampaolo eccolo qua il nostro amico giampaolo polinelli ecco devo alzare il braccio di un metro per inquadrare lui lo chiamo io il gigante buono giampaolo solo magarelli è più alto è vero magarelli è più alto ma tutti quelli che si chiamano elli mi sa che sono alti magarelli polinelli allora ecco qua vi faccio vedere ah intanto vedete sono in maniche corte e poi guardate la maglietta cioè non potevo avere una maglietta diversa allora vediamo se da qua riesco a uscire no qui è chiuso mannaggia perché il camper è là dietro però da lì si vedeva vediamo se riesco a farvelo vedere da qui attraverso la siepe ma dov'è è scomparso ci hanno rubato il camper ah eccolo vediamo se riesco a farvi vedere il camper attraverso la siepe eccolo eccolo qui l'avete visto spero di sì ho fatto un'inguadatura alla cieca ecco qua bene poi qui invece ho visto che all'ingresso dell'hotel ci sono già un po di attivisti che sono venuti a prenderci adesso adesso li andiamo li andiamo a intervistare vedete vedete lì è pieno di è pieno di attivisti 5 stelle dai adesso vado da loro sperando che la connessione tenga perché ho visto che all'interno dell'hotel la connessione non era proprio eccezionale allora ieri sera purtroppo avete sentito avete abbiamo visto tutti la notizia dell'attentato a boston per la maratona ieri ho visto ho visto che insomma ci sono stati dei ci sono state delle vittime purtroppo non non ho guardato i giornali né accesso la televisione oggi quindi non non so se ci sono novità ulteriori rispetto a ieri sera comunque appunto dicevano che c'erano state delle vittime due esplosioni più due altre bombe che sono state disinnescate mi chiedo se hanno già trovato qualche carta di identità di qualche terrorista magari coreano o iraniano buongiorno signora e quindi insomma storia triste allora vediamo se riesco a capire dove è l'uscita spero che la connessione stia tenendo così vi faccio vedere qualche qualche attivista che è venuto che è venuto a trovarci ecco qui hanno tutta l'area di essere degli attivisti 5 stelle questi signori buongiorno ciao ciao volete apparire in diretta sto facendo un mi scappa la diretta mattutino volete presentarvi allora chi sei tu vai vai no cominciamo con te ma come è la telecamera interna interna mauro rampogna pordenone pordenone sì non ho un ruolo specifico faccio parte del gruppo di pordenone e assisto in questo momento i candidati ah loro sono proprio candidati allora i candidati loro due tu che quattro allora cominciamo facciamo in questo giro dai ciao sono fabio valeri sono candidato per la circoscrizione di pordenone per le regionali per le regionali bene buongiorno io sono moraz valeria candidato per le regionali pordenone wow aspetta ciao io sono francesco vanin candidato alle regionali per la circoscrizione di pordenone evviva ciao linda rossetto candidata per le regionali ci vediamo presto che aria dire ragazzi come che notizia avete da zoppola stiamo andando a zoppola giusto ecco che che cosa ci aspettiamo io visto che è un giorno lavorativo a luna non è che mi aspetto una piazza a stracolma voi invece no ma zoppola è con noi zoppola è con noi sì 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 ma quindi la gente che fa prendere delle ferie come fa a essere vabbè luna in effetti è la pausa pranzo luna insomma salta il pranzo magari si si mangerà un panino per strada no andiamo alla prima così troviamo anche chi perché io ho visto sul blog di Beppe a luna sì ma cerchiamo di andare lì il prima possibile cerchiamo di anticipare ottimo ottimo va bene allora vedremo quindi diciamo tra mezzogiorno e luna insomma ecco quanto ci vuole da qui mezz'oretta 40 minuti 40 minuti allora se veramente dobbiamo insalire alle 12 conviene che andate a dirlo a pietro e a valte perché visto che sul blog è seguito luna pensavano di partire alle 11 e mezza da qui quindi dobbiamo anticipare allora bene allora avete sentito in diretta appunto che l'ora probabilmente perché sul blog ho letto stamattina luna però qui gli attivisti locali che conoscono il territorio hanno pensato che forse è meglio anticipare che poi è l'ora originaria quindi abbiamo fatto una vanda in tre 12 13 12 esatto noi creiamo scompiglio dappertutto ma sì per confondere l'avversario va bene come vedete c'è una giornata stupenda ma anche loro sono attivisti no sono dei nostri bene bene c'è una quanti gradi ci feranno penso almeno una ventina 20 22 magari io sto in maniche corte e vi giuro non ho la pelle d'oca vedete aspetta sono incontroluge ecco forse così ma me no come devo fare per per inquadrarmi bene vediamo un po ecco così sono sotto sotto il sole c'è proprio una temperatura gradevolissima anche con con la maglietta con le maniche corte vedo che sono l'unico qua ci troviamo che siamo a maniago si qua siamo a mani si si l'ho detto all'inizio che siamo a maniago terra dei coltellai coltellai quindi qua si fanno coltelli esattamente si qui no maniago è nata si è sviluppata costruendo e facendo artigianalmente i coltelli con dei rudimentari sistemi di maglio ottenevano la forgiatura della lama che poi veniva lavorata manualmente quindi è cresciuta a pordenone la provincia tutti quanti avevano la propria cucina nelle proprie stalle nelle proprie officine un coltello assolutamente forgiato a maniago cosa che si sta perdendo perché ormai con le importazioni con i trattamenti con le cose si sta perdendo questa cultura ci sono però delle piccole attività commerciali che continuano a proporre e mantenere questa questa cultura pressoché proprio artigianale tra l'altro non dimenticare che ci sono delle aziende nella zona industriale specializzate nella produzione di bisturi e attrezzature per le sale operatorie un'altra cosa invece di fama mondiale ci sono due due importantissime aziende che producono le palette per la produzione per le turbine per la produzione di energia o addirittura propulsione quindi parliamo di aziende veramente di un grosso spessore tecnologico e tutte create appunto nate qui a maniago bene molto molto interessante chi vuole fare un giretto qui c'è anche il museo dei coltelli e anche un'area camper appena inaugurata attrezzata per chi ha voglia di fare un bel giretto quanti abitanti fa maniago più o meno ma penso che saremmo attorno ai 10 12 mila quindi una cittadina insomma non grande sicuramente però molto piacevole infatti vedo prima avevo fatto vedere già il camper e lì ovviamente visto che durerà il tour solo quattro giorni ecco lo vedete laggiù nello sfondo non si è deciso di non spendere soldi per la brandizzazione quindi è così è anonimo abbiamo dei manifesti cartacei vediamo i cagliari con lo scoggio in maniera artigianale sempre esatto in stile 5 stelle 5 stelle ecco per il momento come vedete è assolutamente anonimo è un bel camper bianco e basta come giusto cioè spendere 2 3 mila euro per fare un brand di un camper che per usarlo quattro giorni sarebbe stato veramente un insulto a coloro che che insomma hanno problemi e sono tanti purtroppo va bene allora io direi che per questo mi scappa la diretta possiamo anche chiudere qui a leggiamo qualche commento vediamo un po allora andiamo un po indietro beh sono pressoché saluti a ciao salvo vengo a trovarvi giovedì a grado dice flash over bene così finalmente ci conosciamo maurizio tola buongiorno dume suis buongiorno mitico ciao salvo c'era un deputato a 5 stelle ad agorà stava parlando con dei cittadini che manifestano poi ale lau ciao salvo ci mancava lo tsunami uno sluttne agli attivisti un salutone voleva essere agli attivisti 5 stelle da parte di isolano 72 maurizio tola spacca un abbraccio dalla sardegna andrea poddigghe 56 anche qui c'è il sole e si sente bene allora direi che è tutto per questo mi scappa la diretta magari farò un aggiornamento dal camper così vi faccio vedere per la prima volta beppe prima di andare proprio nell'arena e poi alle 12 allora abbiamo detto sì vedremo di fare il possibile per essere alle 12 a zoppola a zoppola sì alle 12 a zoppola e poi ci sposteremo se quasi aggiorneremo sull'orario intanto che faremo nel frattempo mentre andremo giù qualcuno vi darà l'indicazione così vi faremo vedere la cementizillo cioè la cementeria che vogliono trasformare in inceneritore quindi sarà una bella una bella gita da osservatori bene 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 qua dice buongiorno a tutti alieni stellati e sì è vero siamo un po alieni bene ci vediamo più tardi allora mi raccomando seguiteci ciao a tutti